Buongiorno e bentrovati. In questa edizione di Mattino 6, oggi è mercoledì 29 marzo 2017, i titoli dei quotidiani locali e anche le prime pagine delle testate nazionali le leggeremo insieme e poi vedremo anche alcuni dei servizi, vi riproporremo alcuni dei servizi confezionati dalla redazione del TG6 nella giornata di ieri. Iniziamo la nostra rassegna con le quattro edizioni del centro. Edizione Aquilana, questa l'apertura, centro storico, ostaggio dei vandali. L'Aquila, le notti della Movida tra zuffe e automobili danneggiate. Poi alcuni richiami di fatti nazionali, intanto il decreto terremoto maltempo, il governo 3 miliardi in 3 anni e zone franche. Poi ancora sulla A14 all'altezza di Bologna, tir tampona pullman, feriti 16 turisti tedeschi. Poi calcetto e curriculum, GAF, lavoro, nuova bufera sul ministro Poletti. IMSS, pensioni 14esima, ecco a chi tocca. Poi la fotonotizia e torniamo a fatti legati alla nostra regione. L'Abruzzo tira la cinghia, consumi, la grande frenata. Se ne è parlato poi in un convegno ieri a Chieti, più tardi vedremo il servizio. Di spalla, leggiamo, l'Aquila ha spillato i 125 mila euro dal conto di un'anziana ad Avezzano. Due arresti per la rapina in tabaccheria. Poi in basso, in vista del derby di Serie D di domenica tra Avezzano e l'Aquila, derby piano per la sicurezza. Oggi decisione per le tifoserie. Poi ricerca il sulmonese Colangelo, guida il team dei Cervelloni. L'edizione di Chieti, Ateneo, professore preso a calci. A Chieti, appunto, concorso a odontoiatria, finisce a botte con due specializzande. Poi di spalla, a Casalbordino, il motociclista morto dona gli organi. A Chieti la lavatrice fa incendiare l'appartamento. E poi in basso, Lanciano, omofobia, studenti interrogati. La polizia convoca 20 ragazzi dopo il sit-in a scuola. E a Chieti, giudice incompatibile, rinvio per di primio. La edizione ora teramana. Sanità, via libera a 91 assunzioni, ma la ASL di Teramo resta sotto organico di 500 unità. Poi di spalla, bancarotta, crack, soggesa. Inchiesta chiusa con 8 avvisi. Post-sisma, scuole in città. Non c'è un calo degli iscritti. Poi sempre a Teramo, in basso per la cronaca, traffico di shabu a Teramo. E una potente droga sintetica, arrestato operaio cinese. Un'operazione internazionale della polizia. E poi la polemica che si è scatenata ieri dopo un comunicato della società. La società è il Real Giulianova che attacca il sindaco. La prima pagina ora dell'edizione di Pescara è morto Carlo Pace. Scatta l'inchiesta. L'ex sindaco era stato investito da un'auto. Era accaduto lunedì pomeriggio. Il PM blocca la salma. E poi di spalla un altro addio, quello al professor Scrocco, il professore amato dagli studenti. Docente di statistica all'Università d'Annunzio. E poi procura di Pescara, Tedeschini, lascia il 15 aprile. Varone a capo. E poi in basso, tassa sui rifiuti, tari, bollettini non arrivano. Scadenza il 31, molte famiglie non hanno ricevuto gli avvisi. A Francavilla allarme prostitute, multe salate ai clienti. E ora la città, il quotidiano della provincia di Teramo. In questa apertura ha chiuso il concorsone delle polemiche. La Asle di Teramo assume 91 operatori sociosanitari rispetto ai 56 preventivati un anno fa. Sotto la testata chiuse le indagini su Sogesa. 8 indagati per Bancarotta. La gestione della discarica consortire di Notaresco, ovviamente sotto la lente di ingrandimento. A Rosetto degli Abruzzi ci sono due richiami. Oggi blitz in consiglio contro gli aumenti tari. E poi 400 firme per il disenso unico in via Manzoni. Di spalla, forse qualcuno di voi ricorderà la casalinga che era stata ustionata, che si era ustionata in cucina. Ebbene, non ce l'ha fatta. È morta la casalinga ustionata in cucina. La casalinga di Sant'Egidio alla vibrata. E poi ancora arresto a pieno d'accio. Droga sintetica nelle bambole importate da Hong Kong. Poi al centro, intanto vediamo questo progetto, ecco il progetto al parcheggio di San Gabriele, polo scolastico, il primato è di isola. E poi in basso per la politica, Dodo gioca d'anticipo sulla poltrona, entra in giunta per qualità e responsabilità. E poi lo sport in basso, Lega Pro, San Bancone, Maceratese, Le Marche, Crocevia per la salvezza del diavolo. E poi la polemica di cui vi abbiamo parlato, abbiamo visto in precedenza, Mastro Mauro sale sul carro dei vincitori. Questa è la critica mossa dal Real Giulianova del Presidente Bartolini. Ora il messaggero Abruzzo, la prima pagina. Famiglie, consumi a picco. Gli effetti della crisi fotografati nell'indagine del Cresa. Il budget mensile scende a 2.049 euro. Aumenta il divario con il Nord, ma il taglio delle spese superfule risparmia l'istruzione dei figli. E poi un po' più in basso è morto l'ex sindaco Carlo Pace. Il dolore è l'inchiesta sull'incidente. Sotto la testata alcuni richiami. Pescara, Fiorella Mannoia, concerto con fondi dell'Unione Europea, paghi il comune. Corte dei conti, Pescara, citati in 15 per la gita al Columbus Day. E poi il sentiero della libertà, il cammino sulla maiella nel nome del soldato Ciampi, presentata ieri dal Presidente del Consiglio regionale di Pangrazio, edizione numero 17 del Freedom Trail, che partirà il 28 aprile da Sulmona. Di spalla Romina e Albano, il gran ritorno al Civitella. E poi in taglio medio finisce a botte il concorso a odontoiatria. Chieti in ospedale, professore e due ragazze, il parapiglia dopo la scoperta di un cellulare. La fotonotizia, l'Aquila, l'assassinio della cattedrale, a otto anni dal terremoto, ancora macerie a San Massimo. E in basso, la politica terramana, Brucchi trova Di Sabatino, giunte inquiete. Possiamo ora passare alla rassegna delle prime pagine dei quotidiani nazionali, iniziando dal Corriere della Sera. Brexit al via, ma senza muri. No attetti prestabiliti all'immigrazione dall'Unione Europea, si deciderà settore per settore. Oggi la lettera d'addio a Bruxelles, il Parlamento scozzese vota referendum sull'indipendenza. Poi l'editoriale di Gian Antonio Stella, le parole smarrite sui giovani, il calcetto e il lavoro. Il riferimento evidentemente alle parole del ministro Poletti. Poi ancora in taglio medio, il vicino di casa, il fratellastro, sotto accusa per il massacro, ovviamente il riferimento all'omicidio di Alatri. La fotonotizia, la protesta per il gasdotto, gli ulivi e il fronte del no, a priori in Puglia. Andiamo avanti con la prima pagina di Repubblica, con tre titoli in evidenza. Tagli a spese e detrazioni, ecco il piano per Bruxelles, il programma di riforme dal catasto al cuneo fiscale. E poi una secessione contro la Brexit, ora la Scozia sfida a Londra, ha approvato il referendum mentre oggi inizia la procedura per uscire dall'Unione Europea. Poi ancora in basso, Trump cancella la scelta verde di Obama, allarme e clima. Il Presidente degli Stati Uniti riapro le miniere di carbone per creare occupazione. avanti ancora con la stampa, Brexit il giorno del divorzio, ma la Scozia si ha il nuovo referendum. I timori degli italiani da oggi futuro incerto. L'Europa non farà sconti a Roma sulla manovra, la correzione resta dello 0,2% e non discutiamo i conti del 2018. E poi ancora al centro questa foto, la battaglia nel parco degli ulivi, scontri feriti nel cantiere del gasdotto TAP in Puglia e spiantati 200 alberi. La prima pagina di Libero, per favore cacciatela. La titolare dell'istituzione si scorda di essere ministra e continua a fare la sindacalista CGL. Le scuole cadono a pezzi e non preparano gli studenti, ma lei anziché pretendere investimenti in tecnologia e innovazione, e chiede l'assunzione di 25 mila prof. Lei è ovviamente il ministro Fedeli. E poi l'editoriale del direttore Vittorio Feltri. A Minzolini fanno pagare l'amicizia con Berlusconi. Augusto è innocente, scrive Vittorio Feltri. E poi di spalla, Stella Cadente, tutti votano Grillo, ma pochi vanno a vederlo a teatro, scrive Filippo Facci. E poi in basso passa la linea morbida, legittima difesa, e il Parlamento molla gli aggrediti. Avanti ancora con il Fatto Quotidiano, questa è l'apertura che ricalca quella di ieri, almeno nel tema. La tesi del 2008, Madia ministra copia e incolla, non spiega il plagio e minaccia. I siti dei grandi giornali e tutti i TG oscurano la notizia. E poi la Melina, Minzo si dimette, ma stasereno deve votare il Senato in segreto. E a settembre scatta il vitalizio. Poi in taglio medio, permessi facili per trivellare, ultima marchetta ai petrolieri, gasdotti in Puglia, blitz delle forze dell'ordine e scontri con i no tap. Avanti ancora con la verità, chi paga le ONG per riempirci di immigrati. Le organizzazioni che aiutano gli scafisti tra Libia e Sicilia sono tedesche o americane, con base a Malta. Tra i loro fondatori, gente dell'intelligence contractor. Dopo le denunce si muove il Senato. E poi l'editoriale del direttore Belpietro, anche in questo caso le parole del ministro Poletti, sotto la lente di ingrandimento. Il ministro nel pallone, l'ultima di Poletti, assumere i profughi. Poi al centro la fotonotizia, Apple, Renzi e Cook hanno preso in giro i napoletani. E poi ancora i francesi si pappano gli aeroporti veneti. I crack delle banche mandano in crisi i proprietari del terzo polo italiano. A giugno partirà la scalata. E poi ancora il manifesto disastro ambientale. Trump smantella la politica energetica e ambientale di Obama. Ha firmato un decreto esecutivo che riporta il paese indietro di 40 anni. Le lobby del carbone e del petrolio ringraziano. Rimesso in discussione lo storico accordo di Parigi sul clima. Intanto Brexit al via con la doccia scozzese. Da oggi l'odissea della Gran Bretagna per l'uscita dall'Unione Europea. ma dalla Scozia nuovo referendum per l'indipendenza. Il mattino si riprende dallo stesso tema. Cioè la Brexit che è al via. La Scozia però non ci sta. Edimburgo chiede un nuovo referendum sull'indipendenza. No. Di Londra inizia la separazione tra Regno Unito e Unione Europea. Il Premier May data storica. Berlino teme un terremoto finanziario. Poi ancora esplode in Puglia la guerra del gasdotto. E sempre in taglio medio. CIS finisce l'era a Punzo. Iasi prende il comando. Il messaggero. Il titolo d'apertura. Anche questo dedicato all'inizio della Brexit. Strappo della Scozia. Oggi il primo atto della separazione di Londra dall'Unione Europea. Berlino. Alti rischi finanziari. Il Parlamento di Edimburgo sia il referendum per l'indipendenza. Stop della May. Anche in questo caso la fotonotizia è dedicata al gasdotto TAP. La cosiddetta guerra degli olivi. Ai picchetti anche liceali con i prof. Sale la tensione per l'espianto dei fusti. E poi sempre in riferimento a questa notizia. C'è l'editoriale di Oscar Giannino. Il caso pugliese. L'Italia dei vetici risparmi almeno i cattivi maestri. Andiamo a vedere i due titoli in taglio medio. Il DEF e la Previdenza. Manovra niente tasse. Solo tagli. E sulle pensioni si cambia così. Alatri presi. I killer hanno ucciso Lele. Mentre scappava. Sono due fratellastri. Erano fuggiti a Roma. Il massacro raccontato da decine di testimoni. Il secolo XIX. Leggiamo il titolo d'apertura. Cassimatis sfida Grillo. In tribunale ricorso dopo l'esclusione dalla candidatura a sindaco del Movimento 5 Stelle. E poi ancora il tempo. Pagheremo caro. Pagheremo tutto. Le nuove tasse. Altro che le lottature contro Bruxelles. Il governo si piega ai diktat dell'Unione Europea. Carburante, sigarette, alcolici. Così pescheranno i miliardi per la correzione dei conti. E poi la fotonotizia dai cuccioli alle finte ricette asle. La macchina del pianto. Incinta ma solo di pomeriggio. I mendicanti ci truffano così. E poi di spalla il tiro a Poletti. Sport nazionale degli ipocriti. L'83% cerca lavoro tramite amici. Poi ancora andiamo a vedere la prima pagina dell'unità. E con questa pagina chiudiamo la rassegna nazionale. Quell'oggetto misterioso chiamato DEF. Dalla richiesta di gentiloni alla Unione Europea. Per una maggiore flessibilità. Al nodo di come impedire che scattino le crautore di salvaguardia. Come orientarsi e valutare il dibattito del governo. E poi il nuovo zar e il tifo dei populisti. Con una foto di Putin. Possiamo lasciare l'unità. Torniamo alle testate locali. Andiamo a sfogliare le pagine del centro. Troviamo queste due pagine. I consumi degli abruzzesi. Diminuisce la spesa delle famiglie. Tagli ad abbigliamento e vacanze. Il rapporto della corsa fotografa. Una crisi perdurante. Soprattutto nei bilanci dei nuclei monoreddito. E di nazionalità estera. Cresce la disparità tra aree interne e costiere. E tra generazioni. La domenica è il giorno preferito per la spesa nei centri della grande e media distribuzione. Con tendenza a orientarsi verso prodotti biologici o a chilometro zero. La presenza di figli spinge una maggiore attenzione all'acquisto di beni di qualità e al risparmio energetico. I coniugi con prole sono anche quelli che risparmiano di più. Poi ancora in basso. Se non c'è lavoro non c'è ripresa. Di Ferdinando, amministratore delegato di Conad Adriatico, dice L'Abruzzo ha bisogno di sviluppo nel paniere dei consumi. Aumentano i cibi pronti e diminuiscono i prodotti per cucinare in casa. Poi ancora, sempre dall'analisi del Cresa, in cima alla lista zucchero e caffè tra i generi alimentari. E poi sul fronte abitazione la casa assorbe i costi più alti. Abbigliamento, vestiti e scarpe comanda la donna. Comunicazioni, budget cellulari decidono i figli. Ieri se ne è parlato in un convegno. Vediamo il servizio realizzato dalla nostra redazione. Oggi c'è questo convegno a Chieti, a cura del Cresa, per parlare delle famiglie abruzzesi, di come vivono oggi le famiglie abruzzesi e soprattutto dei loro consumi. Qual è la situazione e cosa è emerso da questa indagine? I nostri dati si riferiscono alla precedente rilevazione di 5 anni fa. In questi 5 anni i consumi di abruzzesi sono diminuiti di oltre il 10%. Una quota che è decisamente importante, però rappresenta la crisi che stiamo vivendo. Una crisi che colpisce tutte le famiglie e che ha portato ad una diminuzione tra l'altro di consumi in maniera ovviamente anche articolata, nel senso che il consumo alimentare rimane sostanzialmente è stabile. Cosa è estremamente interessante, rimane stabile il consumo di istruzione, quindi c'è una volontà di futuro perché si investe sull'istruzione sui giovani, scende il consumo dell'elettronica e il consumo in termini più generali. Una discesa significativamente inferiore a quella nazionale, quindi una regione in crisi e questo purtroppo ne fa la fotografia. Noi con i dati congiunturali abbiamo verificato che negli ultimi trimestri c'è stata una crescita della produzione di valore del prodotto interno regionale, è una crescita, è un'uscita della crisi che è ancora a macchia di leopardo, nel senso che sono uscite la crisi delle grandi imprese. Una parte il mondo delle piccole imprese, in difficoltà sono le medie imprese, il mondo dell'edilizia non riesce a riprendersi nonostante la ricostruzione aquilana. Sempre sul centro, decreto terremoto maltempo, il governo apre alle zone franche per le imprese, il premier Gentiloni incontra i quattro governatori, d'Alfonso Positivo il sostegno alle attività produttive. E poi assemblea lavoratori regione, Abruzzo Engineering, ora il progetto di sviluppo. Avanti ancora riscossione delle tasse, bollo auto, no, della regione alla rottamazione dei debiti, l'operazione costerebbe 5 milioni di euro per 5 anni, l'assessore Paolucci. Non ci sono risorse, occorrerebbe tagliare, ma preferisco salvare i servizi. Sì di Chieti, dopo Pescara e l'Aquila, Teramo, Tentenna. Poi ancora andiamo alle pagine della cronaca di Pescara, con la notizia di ieri mattina. L'ex sindaco investito Carlo Pace muore in ospedale. Inchiesta della procura, ricoverato in ortopedia, era stato trasferito in rianimazione 5 ore dopo. Cartella clinica all'esame del PM. La camera ardente sarà allestita in comune. Chiaramente non mancano le testimonianze, quella di Carlo Masci. Con lui trasformammo la città, amici, oppositori uniti, una persona per bene. D'Alfonso, sua, la visione della città veloce. Poi le grandi opere dell'ex primo cittadino, strade, palazzi e musei. In nove anni rilanciò la città. Dalla realizzazione della strada parco, all'acquisto delle aree di risulta, dalle ferrovie dello Stato sotto la guida di Pace Pescara ebbe uno sviluppo urbanistico mai visto prima. Qui vediamo alcune delle opere più importanti. La realizzazione della strada parco, la costruzione del nuovo palazzo di giustizia, l'acquisizione, come detto, dalle ferrovie dello Stato, delle aree di risulta, la nascita del centro di astrofisica. E poi ancora il ricordo della segretaria. Quando piombò in comune quell'uomo con la pistola. E poi in basso leggiamo lo stesso tragico destino, travolti da un'auto, appunto il destino comune con il noto Eriberto Mastro Mattei. Allora, vediamo il servizio relativo alla scomparsa dell'ex sindaco di Pescara, Carlo Pace. Pescara piange l'ex sindaco Carlo Pace, 81 anni compiuti ad ottobre, che ha governato il capoluogo adriatico ininterrottamente dal 1994 al 2003. Nel primo caso dopo essersi imposto su Mario Collevecchio e poi nel secondo caso dopo aver avuto la meglio su Gianni Melilla. è stato anche coordinatore della commissione sismica mista della regione Marche-CNR e componente del comitato tecnico amministrativo del provveditorato alle opere pubbliche dell'Aquila. Per quanto riguarda la politica è stata forte in passato, ma sempre leale. La sua rivalità con Nino Sospiri all'epoca presidente del Consiglio Comunale. Nell'ultimo periodo e nell'ultima campagna elettorale ha appoggiato la candidatura a sindaco di Guerino Testa. Carlo Masci, un ricordo dell'ex sindaco Carlo Pace. Lei è stato assessore nelle due giunte dell'ex sindaco di Pescara. Un po' il suo braccio destro, possiamo dire. Sono sconvolto. La notizia è tragica perché oltre a essere stato assessore con lui per nove anni siamo stati legatissimi. Lo considero un padre politico, un maestro di vita e un carissimo amico. Ieri ho saputo la notizia dell'incidente, ho chiamato la famiglia, mi avevano anche tranquillizzato. Nel senso che mi avevano detto che c'erano problemi, l'incidente era stato grave, ma lui non correva pericoli e quindi mi ero anche tranquillizzato. Stamattina invece ho avuto questa notizia incredibile. Non ci posso ancora credere, è veramente un dramma. Pescara è stato un grandissimo sindaco, un sindaco che ha amato la sua città, un grande innovatore. Con lui è cresciuta una classe politica nuova, è stato onesto, ha proprio incarnato l'onestà e la serietà nella politica. Pescara perde una persona di grandissimo livello, di grande spessore. Un uomo che sarà ricordato da tutti per la sua serietà e la sua correttezza. Un uomo politico molto considerato, apprezzato anche dal centro-sinistra. Pescara questo non accade sempre? Assolutamente sì, perché è stata una persona onesta. Non è mai stato un politico nel vero senso del termine, della parola. È stata una persona che si è messa a disposizione della collettività e lo ha fatto in una maniera bellissima. Pescara con lui è rinata, ha avuto un grande sviluppo, tante novità. Lui amava le novità, era una persona apertissima. Con lui ho ricordi incredibili, momenti bellissimi di vita che rimarranno scolpiti nella mia mente. È una grande perdita per la città anche come esempio di vita. Continuiamo sul centro. Tedeschini lascia il 15 aprile. Procura in mano a Varone, la dirigente che indaga sul Rigopiano, pronta al trasferimento a Pesaro, la reggenza affidata al PM delle inchieste sulla pubblica amministrazione. Poi scendiamo l'appello alberi distrutti e rocce in strada, impraticabile la via vicina all'albergo distrutto, una ristoratrice. Così chiudiamo. L'argomento è ovviamente Rigopiano, proprio il fronte su cui sta indagando l'attuale procuratore capo, appunto Tedeschini, che però come abbiamo letto dal 15 aprile non sarà più al capo della procura di Pescara. E poi in basso, noi dimenticati dalle istituzioni, lettera al capo dello Stato, della zia di Marinella Colangeli, una delle 29 vittime della tragedia di Rigopiano. Vogliamo la verità. Avanti ancora la truffa alle assicurazioni. Ho fatto troppi incidenti, ma se ora ci scoprono l'inchiesta con 154 indagati per i finti sinistri stradali, ecco le intercettazioni e c'è anche chi inganna l'amico, lo porto a Pescara e facciamo il lavoretto. E poi sempre la cronaca, ciuffato con la droga vicino al Florida, il giovane dice pagatti, bloccato e perquisito dai carabinieri, il comune presto il bando per la gestione. E poi un altro lutto che colpisce la città di Pescara, è morto Sclocco, il professore innamorato di Villa del Fuoco, docente di statistica in pensione, colto e amato dagli allievi, era cresciuto nel quartiere impegnandosi per la comunità. In taglio medio, Pomiglio Blum, dietro le quinte delle G7 di Firenze, sulla cultura, l'agenzia pescarese ha organizzato il vertice internazionale. Tassa sui rifiuti, la Tari scade e i bollettini non arrivano. Entro due giorni va pagata la prima rata, ma diverse famiglie non hanno ancora ricevuto gli avvisi di Odati. L'assessore comunale di Odati dice, li abbiamo spediti. E poi ancora vogliamo un rappresentante in giunta. Le liste civiche rilanciano la richiesta ad Alessandrini spunta l'ipotesi delle dimissioni di Pietro. Avanti ancora di scariche sulla sabbia, tubi, bidoni, bottiglie. Il mare restituisce 20 tonnellate di rifiuti sulla riva, montagne di pattume trascinate dalle onde, ma chi va in spiaggia continua ad abbandonare immondizia. Poi a San Giovanni Teatino ha derubato studio di tatuaggi, sparite tutte le attrezzature. A San Giovanni Teatino i radri forzano una porta e svaliggiano l'handmade tattoo shop. Colpo da oltre 11 mila euro. Lo sfogo del titolare sembra un gesto contro di me. Poi in taglio medio, allarme prostitute, multa in arrivo a Francavilla. Proteste dei residenti, il comune pronto a stangare gli automobilisti. Andiamo avanti con le pagine di Chieti, L'Aquila e Teramo. Prima di chiudere la prima parte di mattino 6, siamo nella pagina di Chieti. Tensione all'università. Professore preso a calci da due specializzande. Il concorso specialistico a odontoiatria finisce con l'aggressione al presidente della commissione, Giorgio Perfetti. Tutti e tre sono finiti in ospedale. Le ragazze a loro volta hanno accusato il docente di averle aggredite. Una delle due era stata vista con un cellulare in aula. E poi, incidente a Casalbordino. Il motociclista non ce l'ha fatta. È morto l'opereo Sevele. La famiglia autorizza la donazione di organi. Poi il giudice incompatibile salta l'udienza per di primio, imputato di corruzione. In basso, omofobia, studenti interrogati dalla Digos. Convocati in quest'ora 20 ragazzi identificati dopo il sit-in davanti all'istituto Fermi di Lanciano. Ora la pagina aquilana. Lotta alla criminalità. Rapina con pistola da macellai. Due arresti. Assalto alla tabaccheria di Magliano. Dopo cinque mesi finisce la fuga di zio e nipote a Bezzanesi. Ricercato un complice. Sempre la cronaca. All'Aquila. Spariti 125 mila euro dal conto di un'anziana. La denuncia era girata da un ex addetto della casa di riposo. Dove, ospite, indaga la procura dell'Aquila. Poi in basso, sul Monese guida un team di cervelloni. Pubblicazioni di Colangelo sulla meccanica quantistica sulla prestigiosa rivista scientifica Nature. E quindi la pagina di Teramo. Le nuove droghe da Teramo gestiva il traffico di Shabu. Un cinese residente a Villa Pavone arrestato nell'operazione internazionale. L'anfetamina arrivava nascosta nei giocattoli. L'inchiesta è partita da Firenze e ha portato all'arresto di otto persone. Si tratta di una sostanza molto richiesta, soprattutto dai giovani che frequentano le discoteche e i rave party. E poi, in taglio medio, otto indagati per il falimento della soggesa. La procura chiude le indagini e contesta la bancarotta agli ex vertici, tra cui Di Matteo e Ziruolo. Infine, in basso, assunzione di 91 operatori sanitari. Si conclude il concorsone ASL, ma l'azienda resta sotto organico di 500 unità. Chiudiamo qui la prima parte di mattino 6. Lasciamo lo spazio alle previsioni del tempo, poi a un po' di pubblicità. E quindi rientreremo per sfogliare Messaggero Abruzzo e la città. Buongiorno di nuovo. È la seconda parte di mattino 6 che riprendiamo con le pagine del Messaggero Abruzzo. I 500 euro che dividono l'Abruzzo dal nord. Il divario nella spesa media delle famiglie fotografa gli effetti della crisi. Consumi superflui a picco, secondo la ricerca del Cresa. Il budget mensile scende a 2.049 euro. Unico segno positivo la ritrovata fiducia nella formazione dei figli. Poi tre giorni di cammino per la libertà sul Freedom Trail dedicato a Ciampi. L'edizione numero 17 partirà il 28 aprile. Non è solo turismo, ma riscoperta dei nostri valori, dice Di Pangrazio. Siamo a Pescara, pace morto all'alba. C'è un'inchiesta, troppo gravi le ferite riportate nell'investimento stradale. Il suo cuore ha cessato di battere alle 6.30 di ieri in ospedale. L'automobilista deve rispondere di omicidio colposo, ma si indaga anche su quanto avvenuto durante il ricovero. E' stato sindaco dal 1994 al 2003. La sua improvvisa scomparsa ha suscitato sgomento. E poi in basso l'uomo politico concreto che piaceva a Berlusconi. Su all'acquisizione dell'era di risulta, amante dello sport e della famiglia, la camera ardente a Palazzo di Città. Poi ancora, restando a Pescara, è illegittima la spesa per il concerto di Fiorella Mannoia. L'IPA Adriatic Più contesta al Comune le procedure seguite e l'utilizzo di fondi comunitari. In ballo, 77 mila euro. Palazzo di Città prepara la replica, abbiamo già fornito tutti i chiarimenti. Antonelli dice, avevamo ragione noi. Poi i soldi della Camera di Commercio per pagare la gita al Columbus Day. Daniele Becci e altri 14 dirigenti del centro estero citati dalla Corte dei Conti rischiano di pagare il conto. Poi ancora la cronaca droga a Parco Florida. Nuovo arresto in manette. Un 22enne di Cepagatti sorpreso in trasferta dai carabinieri di Penne agli ordini del capitano Albano. Lo spazio verde nel cuore di Pescara si conferma spazio controllato dagli spacciatori. I rischi per i giovanissimi. Il secondo caso, in dieci giorni, alla ragazza è stata sequestrata marijuana pronta per la vendita. E poi ancora, Tari, le rate salgono a 5, nessun aumento per le case. Seduta movimentata in Consiglio Comunale, siamo a Montesilvano, la maggioranza si regge su un voto ritirato il piano marittimo demaniale. Tassa su rifiuti più leggera per le start-up e più pesante per locali notturni e slot machine. Avanti ancora con le pagine aquilane, strade bloccate sul Gran Sasso. Cialente, le libereremo noi. Il sindaco prende in mano la situazione dopo i gravi ritardi nella rimozione dei detriti. Toccherebbe alla provincia, dice il primo cittadino, ma da ora le prenderà in gestione il comune. Flash mob organizzato da Iemonnanzi, anche il santuario di Papavoitiwa, è ancora isolato. Di spalla la politica centrodestra nel caos. Si torna al sondaggio, l'indicazione dal tavolo romano già avviata, una esplorazione telefonica con i vecchi nomi. Tutto questo ovviamente in vista delle prossime elezioni comunali a Roma. Avanti ancora, inchiesta sull'assassinio della cattedrale, ancora a cielo aperto. Al suo maciullato interno, rigogliose, infestanti, erbacce con tanto di arbusti, continuano ad aggredire impietosamente le preziose macerie. La comunità civica aquilana, cattolici in primis, poco o nulla, ha posto in essere per protestare. Poi ancora, la Vittorini, antichi borghi a rischio con la nuova normativa post-sisma. Poi ancora, siamo in Marsica, irrigazione, ecco i soldi del comune. Il presidente del consorzio di Bonifica, Gino Di Berardino, torna sulla questione nodale del rilancio dell'agricoltura. E riferendosi alla presa di posizioni di confagricoltura, dice troppe critiche, lasciateci lavorare, tessendo le lodi del territorio. Noi impegnati anche sul fronte turistico, per il resto c'è ancora da attendere. Pagine di Chieti, del messaggero Abruzzo. Ateneo concorso, finisce a botte. Proffe, due ragazze all'ospedale. La candidata ha usato il cellulare con luttazione fuori dall'università, il docente. La sorella della concorrente mi ha tirato un calcio al basso ventre. Il presidente di commissione, Giorgio Perfetti, ha seguito la giovane quando ha lasciato la sede d'esame. Diversa la versione della ragazza, io sequestrata, ci è saltato addosso, non avevo alcun telefonino. Poi di spalla, la commissione bilancio boccia il rincaro della Tari, Argenio dei Cinque Stelle. Ci sono errori e mancano alcune parti che non consentono di fare emendamenti. E poi ancora, siamo in Frentania. Miracolo boom di Pellegrini a Pasqua. Da qui al ponte del primo giugno la città si prepara all'invasione di decine di migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo. I padri conventuali minori, già dallo scorso weekend, è partita in grande stile la stagione dei grandi arrivi. L'assessore Miscia a giorni entrerà in funzione il centro accoglienza al polo museale di Santo Spirito. Poi a San Salvo, elezioni in quattro per la poltrona, la Magnacca, primo sindaco di centrodestra e donna della città, cercherà la conferma. Andiamo a Teramo, nelle pagine di Teramo e provincia del messaggero Abruzzo. Di Sabatino entro in giunta ma Brucchi non ufficializza. Consiglio comunale tra i mugugni. Pomante, un assessore alla minoranza. Fracassa, ufficio ricostruzione fermo in aula, il ricordo di Giovannino Pettinaro. Antonio Filipponi è stato eletto nuovo presidente della Civica Assise, secondo i pronostici. E allora su questo rimpasto in divenire, sull'ingresso in giunta anche di Sabatino Martina, vediamo il servizio della nostra redazione Teramana. Quarto rimpasto della giunta Brucchi. Ormai è cosa fatta, o quasi, all'istruzione entra Caterina Provvisiero, in sostituzione dell'assessore dimissionario Francesca Lucantoni, e poi la grande novità. Anche il riottoso Alfonso di Sabatino Martina entrerà nell'esecutivo con delega alla ricostruzione. Dopo mesi di critiche feroci all'amministrazione Brucchi, di Sabatino cambia idea, ma lo fa per una causa nobile, quella di dare il proprio contributo a ricostruire una Teramo a pezzi dopo il terremoto. Il terremoto ha fatto cambiare idea a Dodo di Sabatino, che entra così in giunta? Eh sì, evidentemente detta così è singolare, ma anche restituisce bene quello che è accaduto. Gli eventi sismici di questo periodo e le complessità che hanno comportato, hanno ovviamente obbligato la nostra ritrosia a mutare idee, ci hanno obbligato a assumere una scelta diversa, che sia una scelta di responsabilità, una scelta difficile, che ha ovviamente come tutte le scelte difficili delle grandi complessità, ma che sentiamo di assumere per un grande senso di responsabilità e per il fatto che riteniamo di giocare, o meglio, che quando la lotta si complichi è giusto che anche le persone che hanno un minimo ancora da dare scendano in campo. Quindi una delega alla ricostruzione? Dovrebbe essere questa, almeno a quello che leggo anche dalle vostre indiscrezioni, sicuramente sarà, immagino che sia una delega di questo tenore, complessa, difficile da gestire, con una serie di questioni che ovviamente non vi sfuggono, attengono sia alla pianificazione strategica, anche alle scelte importanti da compiere sulle scuole, sulla città, sul patrimonio pubblico, su operazioni di investimento privato, sull'attrazione di capitali. È ovviamente una delega che presuppone un impegno full time, che presuppone un atteggiamento di grande disponibilità, non è la delega del sottoscritto, questa è la delega della città, questo ci tengo a dirlo perché su questa cosa dobbiamo lavorare tutti e mi auguro che anche questa disponibilità venga raccolta anche dall'opposizione perché, ripeto, questa città deve rialzarsi o deve fare nel miglior modo possibile e nel minor tempo possibile, lo deve fare con la schiena dritta, con grande dignità. Proseguiamo e andiamo a chiudere con il messaggero Abruzzo. Promozione in eccellenza, scoppia il caso, il Real Giulianova contro il sindaco che aveva elogiato il risultato conseguito accusandolo di aver lasciato da sola la società. Mastromauro replica parlando di ingratitudine ed elenca gli interventi destinati dal comune a cominciare dal campo Castrum. Vuoi salire sul carro del vincitore? No, è un attacco senza alcuna giustificazione. Lasciamo così il messaggero Abruzzo e andiamo alla città, il quotidiano della provincia di Terramo. Intanto sulla pagina abruzzese, 3 miliardi in 3 anni per la ricostruzione, il governo stanzia i primi finanziamenti certi, il premier Gentiloni in futuro arriveranno altri fondi. L'annuncio è arrivato durante un incontro con i governatori delle regioni colpite dal terremoto. Si tratterà di risorse destinate alle aree colpite dal terremoto e finalizzate alla ricostruzione per il sostegno al reddito e alle attività produttive attraverso le zone franche e per la sicurezza degli edifici. Parole del governatore Luciano D'Alfonso. E poi Sanità, la ASL chiude il concorsone delle polemiche. Grazie al via libera della regione, gli operatori sociosanitari assunti saranno 91 e non 56, come previsto un anno fa. Pasticci con code, documenti e telefonini durante la prova scritta, denunciati anche dal sindacato Will. E poi ancora per 56 posti hanno presentato domanda in 6.000 alla prova del Palasport di Pesaro. Si sono presentati in 3.600, poi altre due selezioni. Avanti ancora un piano di prevenzione dei suicidi a Castrogno. Casa circondariale e ASL di Terramo firmano un'intesa. Saranno i detenuti a curarsi degli altri detenuti più fragili. C'è anche un team di supporto, oltre allo screening iniziale, i detenuti saranno seguiti da una equip di medici, agenti e personale interno. Allora vediamo anche il servizio relativo a questo piano, la presentazione del piano. Dal 2012 ad oggi, all'interno del carcere di Castrogno a Terramo, si sono verificati 5 casi di suicidio e diversi tentati suicidi. Questi ultimi fortunatamente sventati dalle guardie penitenziarie. È importante dunque fare prevenzione, così il direttore della Casa circondariale, Stefano Liberatore, e il direttore dell'ASL di Terramo, Roberto Fagnano, hanno siglato un piano comune operativo per il pronto intervento e la prevenzione del rischio autolesivo e suicidario dei detenuti. Come si fa in un carcere a prevenire il suicidio? Questa è una domanda molto difficile. Come si fa? Si fa attraverso strategie di comportamento partecipato, attraverso una cooperazione tra tutti gli operatori penitenziari, istituzionali, paraistituzionali, che insieme con tutte le loro forze trovano gli accorgimenti necessari per cercare di contenere, forse la parola giusta è contenere, questo disagio, che purtroppo esiste e esisterà sempre. Uno dei punti salienti dell'accordo firmato tra ASL di Terramo e casa circondariale di Castronio è quello della creazione di uno staff multidisciplinare in grado di prendersi cura dei soggetti che manifestano intenti autolesionistici. È l'ASL, infatti, che gestisce il presidio sanitario del carcere Terramano attraverso una specifica unità operativa diretta da Massimo Forlini. Questo protocollo, diciamo solo l'ultimo atto, già nel passato c'è stata tanta attenzione ovviamente su questo argomento, anche perché in carcere gli atti di autolesionismo che spesso sono non l'espressione di una malattia psichiatrica o di un disagio vero e proprio, ma qualche volta, anzi spesso direi, sono legati alla ricerca dell'attenzione da parte dell'ambiente ovviamente dove si trovano, perché spesso il detenuto ovviamente si sente abbandonato, spesso lo è dalla famiglia, eccetera, quindi cerca una maggiore attenzione attraverso questi gesti. Adesso delle decisioni verranno prese coralmente attraverso questo staff multidisciplinare che si riunirà periodicamente in base all'osservazione che viene costantemente effettuata sui vari detenuti. Notizie dalla provincia, sempre sulla città, Sogesa andò per accusare e finì indagato. La Procura chiude l'inchiesta sul dissesto della società di rifiuti, otto avvisi di garanzia anche per Angelo Di Matteo. Le accuse, la magistratura ipotizza il reato di bancarotta fraudolenta, patrimoniale per cinque degli otto indagati. Angelo Di Matteo, ex presidente Cirso ed ex componente del CDA di Sogesa, più di due anni fa aveva presentato un esposto in Procura contro le gestioni che lo avevano preceduto, in particolare per la presenza del professor Luciano D'Amico. Poi ancora ricostruzione post-terremoto, ecco il progetto del primo polo scolastico a Isola, verrà realizzato nella zona dei parcheggi di San Gabriele, corsa contro il tempo per iniziare i lavori, lavori che appunto leggiamo dovrebbero iniziare entro il mese di aprile per poi consegnare la struttura per la metà del mese di settembre. Nonostante la firma della convenzione, i tanto attesi MUSP tardano ancora ad arrivare. Poi al Sant'Egidio è morta la casalinga ustionata in cucina. Giovanna Marozzi, 78 anni, era ricoverata al Sant'Eugenio. Si svolgeranno questa mattina alle 11 nella chiesa Sant'Antonio di Villa Marchesa i funerali. Poi a Giulianova, lite istituzionale sulla promozione del Real. La società accusa Mastro Mauro di essere salito sul carro dei vincitori. C'è anche la risposta per il sindaco. La nota societaria è una misera caduta di stile che non riconosce l'impegno profuso. A Roseto, blitz in consiglio contro gli aumenti tari, bagnatori e commercianti in comune durante l'assise di oggi. Intanto prosegue la polemica sul bilancio. Gli operatori commerciali rosetani chiederanno all'amministrazione comunale un passo indietro sulla tassazione. Sempre a Roseto, 400 firme contro il doppio senso di marcia in via Manzoni. La minoranza raccoglie il malcontento dei residenti, ma ci sono posizioni fredde anche in maggioranza. L'amministrazione Pavone aveva limitato il traffico anche per la presenza del centro giovanile Piamarta. Oggi la discussione in consiglio sul provvedimento che coinvolge anche tanti fedeli. Andiamo alle pagine dello sport. Gugolotti, chiaramente si parla di Teramo, le marche nel destino, così il Teramo può farcela. San Benedettese e Ancone tra qualche settimana alla Maceratese delineeranno il futuro del diavolo bianco-rosso. Gugolotti sta cercando di recuperare Petrella in vista dell'impegno di sabato sera. sabato l'incontro con il rosso-blu di San Derra. La San Benedettese il mercoledì successivo ha lo scontro delicatissimo con i Dorici e il 23 aprile con la Rata. Questi tre match saranno un crocevia. Poi la Teramo a spicchi, parliamo di basket, vince il derby e si regala la semifinale con Termoli. Al termine di una sfida molto sentita è davanti a 600 spettatori. La squadra di Stirpe centra il quarto posto. Rapidamente torniamo alle pagine dello sport del centro. Vediamo la due pagine sul Pescara. Ecco il Milan-Muntari-Romba-Zeman lo studia per il futuro. Il mediano del Pescara ha il grande ex tra gol fantasma e risate con Berlusconi. Il centrocampista ganese pronto a sfidare la sua vecchia squadra in rosso-nero. Grida ancora vendetta, quella rete annullata contro la Juventus. Poi in basso la padula all'Adriatico. Giocherà dall'inizio il bomber forse titolare nel suo vecchio stadio. Montella, Zeman e le sue squadre capaci di tutto. E poi ovviamente il futuro e i possibili rinforzi per la prossima stagione. Catellani, Favigli e Caputo gli obiettivi per l'attacco. Grandi manovre al via. Nel mirino le due punte. In forza la Virtus Entella per il giovane bomber dell'Ascoli. Bisogna aspettare le mosse della Juventus. e poi la Lega Pro. Il Teramo si affida alla spinta del Bonolis nella corsa salvezza. Leggiamo oggi riunione per l'ordine pubblico. Dalle decisioni del GOS dipende l'annuncio della giornata bianco-rossa. Per il basket, Roseto e Chieti. Roseto, May, più ci danno per spacciati e più ci carichiamo. Contiamo sull'apporto dei tifosi per continuare a stupire, dice. E poi di Cosmo, Proger, credo nella salvezza ma devi combattere. Il presidente è deluso dopo la prova di Ancona e l'ala piccoli d'ora in poi bisogna soltanto lottare. Vediamo anche un paio di titoli sul messaggero Abruzzo. Quello sul Pescara, Zeman Pavone. La coppia giusta parla dell'Icarri, l'ex DS. Un piacere rivedere il Boemo. Il DS lo conosce benissimo per il mercato e una garanzia. Il tempo ha rivalutato anche la mia scelta di stroppa. Mancuso e Proietti, bei colpi. Culi Badri può diventare un asso. E poi, sempre per il calcio, ma scendiamo nei direttanti, in particolare in eccellenza, Montani, Francavilla. Prendiamoci i play-off. Il tecnico torna sulla panchina dalla quale era stato esonerato da primo in classifica. Sono qui perché ho un lavoro da finire. Dopo l'esonero di Michele Gelsi, il tecnico riparte con una trasferta impegnativa contro la Miternina. Noi chiudiamo qui la rassegna stampa di mattino 6. Vi ricordo gli appuntamenti con i nostri notiziari, i tre appuntamenti principali con il TG6 alle 14, alle 19 e alle 23. In regia ringrazio Gianni D'Areo e Silvia Gentile. Ringrazio voi anche per la cortese attenzione. Buona giornata. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.